Di certo c'è solo la musica, sembra che per raccontare l'estate di Gubbio ci si possa sbilanciare poco, anche se molti garantiscono che l'offerta per turisti e Deogubini in realtà non mancherà. Con la caduta del governo cittadino a fine maggio la programmazione estiva ha subito un forte frenata, venendo meno la figura centrale dell'assessore a tirare le fila di un intero cartellone. È sopraggiunto poi il problema del mancato rispetto delle normative di sicurezza al teatro romano, che ha decretato ad esempio l'annullamento del concerto di Umbria Jets con McCoy Tainer e grandi problemi per garantire la stagione teatrale. Dunque cosa succederà? Cosa potrà fare il commissario prefettizio Maria Luisa D'Alessandro? Sta lavorando incontrando i soggetti promotori delle varie iniziative e la prossima settimana al massimo potrebbe conoscere il programma ufficiale di questa estate 2013, che non solo per le condizioni climatiche Gubbio Sem non avviasse, ma davvero il tutto. Confermato il Gubbio Summer Festival del direttore Atia Ghigi da luglio sino ai primi giorni di agosto, festival che si è arricchito di ancora nuovi correnti. Dato perciò anche la nuova edizione di Gubbio No Borders dedicato all'organizzatore Luigi Filippini dai primi di agosto, la stagione teatrale potrebbe non mancare, seppur con pochi spettacoli visto il ritardo della programmazione, cambio di location per necessità, con il palco che potrebbe essere allestito al Chiostro di San Pietro. L'incontro con il Teatro Stabile dell'Umbria c'è stato e si sta valutando. San Pietro che ospiterà anche il Gubsock Rock Festival, anch'esso alle prese con il trasloco dallo storico teatro romano. Ricco poi il cartellone di concerti ed eventi al Parco Ranghiasci promosso dalla situazione B612 e sembra confermata anche la notte dello sport prevista per venerdì 6 settembre. Venerdì scorso l'usione Leucos ha incontrato i rappresentanti del comune per concordare come recuperare il ritardo accumulato. Sembra che tornerà il bungee jumping, chissà chi salirà sul cestello per salutare iniziativa, mancando l'assessore Bellucci e chissà che il commissario non sarà invitata. Si pensa a gonfiabili per bambini, al calcio saponati, forse al piattello e allo street climbing. Quanti turisti saranno a Gubbio in questa estate di profonda crisi economica non si sa ancora. Presumibile però pensare che gli ogubini che resteranno in città non saranno pochi. La speranza è dunque che le serate possano essere arricchite il più possibile da concerti, spettacoli ed iniziative. Grazie. Grazie.